buongiorno benvenuti al sabato di cosmo prof bologna sono silvia fossati direttore di estetite li benvenuti su al fox channel siamo in compagnia di roberto marti amministratore delegato di iso farma cosmetics benvenuto grazie 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 a te la prima domanda è senz'altro una breve presentazione dell'attività di iso farma cosmetics farma si occupa ormai da quasi 15 anni della distribuzione e produzione di apparecchiature per elettro medicali di dermatologia ambulatoriale estetica e della distribuzione della cosmetica sul mercato italiano proveniente dalla spagna ci vuoi raccontare quali sono le novità imperdibili per i visitatori di cosmo professe il vostro spazio espositivo in realtà quest'anno noi lanciamo un apparecchiatura lo skin infusion che fonde insomma l'utilizzo della cosmesi della dermocosmesi con l'elettrologia con il dispositivo in realtà cerchiamo di saltare attraverso la tecnologia sia il potere commerciale che il potere funzionale la parte cosmetica come elemento diciamo di rilancio nel centro estetico cercando di incontrare quanto più possibile clienti dando ed inserendo l'autocura l'om che è estremamente importante nel mantenimento eccetera importante anche per il rendimento dell'attività assolutamente l'aspetto commerciale è determinante diciamo non basta solo fare strumenti di buona qualità di grande qualità ma in realtà poi devono trasformarsi in alleati sia da un punto di vista funzionale dal punto di vista commerciale all'interno del centro al supporto dell'estetista benissimo roberto io ti ringrazio del tuo tempo grazie a voi invito i visitatori di cosmo prof i nostri ascoltatori a recarsi al padiglione 16 presso lo stand di farmacosmetics a 28 di 27 grazie ancora grazie ancora arrivederci